Siamo a San Pietro Apostolo, ho avuto il piacere e l'onore come prologo di San Pietro Apostolo di ospitare la riunione del Consiglio Direttivo Provinciale UMPLI alla quale ha partecipato anche il nostro Presidente regionale Pupi Capelicuo c'è stata una buona presenza anche di consiglieri regionali e dei revisori dei conti la prima riunione che facciamo in presenza dopo tanto tempo perché a causa della pandemia e quindi delle norme anti-covid tutte le riunioni presenti sono state in remoto, in video e quindi per me è un grande piacere aver potuto ospitare dopo tanto tempo e tutti i Presidenti di Prologo della Provincia di Catanzaro abbiamo anche approfittato per fare un giro nel Paese di San Pietro Apostolo e quindi visitare dei luoghi del Centro Storico tra l'altro anche il Museo dell'Arte Contadina e Artigiana la sede della Prologo, la Fototeca e niente, è stata la riunione, è stata più che altro una riunione per poter dopo tanto tempo riprendere quei contatti personali che ci sono mancati e per parlare un po' di quello che è il futuro delle Prologo di quello che potremmo organizzare breve con l'allentamento delle misure di restrizione per il Covid quindi abbiamo parlato di questo della situazione, delle prospettive future e del doverci riorganizzare e quindi riprendere un percorso che è stato interrotto dalla pandemia Grazie a tutti